Io come faccio? Pony, Chica e Foxy, gli orubbili, mi dicono sempre, attaccano anche tu. Ma io sono timido e non vorrei che faccia una cosa brutta e lo spavento. Io non ci riesco. Pony mi dice sempre che io sognavo il capo e il capo dovrebbe essere il primo ad agire. Ma io non ci riesco perché... no, non ci riesco. Perché a me non ce la faccio. Qualche volta lo guardo nel retro di camera così tanto per fare, ma se non fossi proprio... che fossi così tanto timido neanche dalla telecamera lo potrei. Io non capisco, ma oggi è la terza notte e stavolta mi muoverò. Però... piano piano. Faccio piccoli passi perché ancora almeno ce ne riesco. Quindi devo fare piano piano. Ok? Ecco sto lasciando il palco. Ora mi trovo insieme ai tavoli. Mamma mia! Mamma mia... mamma mia come buio. Forse è meglio accendere le mie luci. Mamma mia, che cos'è questa roba? Chiuri sono, sono le sei, per mattina, per noi.